Era creare una copia. Ora lo avro. Ripensoci. Le conseguenze della tua richiesta... Tornatene al tuo repositorio, Molto. Ecco l'ascensore gravitazionale. Facciamola finita. Mi ricorda. Tu hai voluto che accadesse. Io sono lei. Sì. Una copia esatta. Era l'unica opzione che ci restava. Le mie routine... E i sistemi... Tutte copie. Alzi ha rimosso ogni informazione compromettente. Sei lei, se non mi avesse conosciuto.